Questa mattina sono particolarmente contenta perché la ministra del Sud Carfagna ha dichiarato durante delle audizioni in Commissione Bilancio e Politiche Europee che è stato destinato un capitolo importante del Recovery Fund al mezzogiorno. Questo ci fa ben sperare per il futuro, tuttavia ci sarà la massima attenzione a vigilare su questi fondi perché ahimè siamo abituati a tante promesse che poi non vengono mantenute a discapito del nostro Sud.